La vigilia di Natale fa diventare Soleil più buona. A capotavola con Katia Ricciarelli fa per prima un discorso di apertura. Brindiamo a tutti coloro che ci amano e che ci sono vicino. Poi si emoziona e passa la parola a Katia che dice un augurio speciale anche alla redazione che sopporta tutti i nostri capricci e che ci aiuta in questo percorso. Un auguro ad Alfonso Signorini. Soleil dice anche al nostro pubblico che saranno milioni. Carmen ricorda anche tutte le persone che festeggiano il Natale da soli e che sono in difficoltà e con la loro compagnia possono passare delle ore di distrazione. La cena della vigilia ha inizio tra i concorrenti. Le questioni sono alle spalle. Almeno per Natale. Buon Natale a tutti. Canale YouTube Fabio Pecce.